Credo che la presentazione di una squadra Under 23 poter permettere a questi ragazzi, ci auguriamo i campioni del futuro, di poterci rappresentare in decine e decine di corse durante l'anno e soprattutto mentre corrono e sono in giro nei territori, portare l'eccellenza dell'Emilia-Romagna al servizio di tanti cittadini, territori, utenti, potenziali turisti per una regione che è passata in questi anni da 45 a 60 milioni di presenze credo sia un ulteriore contributo di straordinario marketing territoriale da parte di chi svolge uno sport peraltro che anche a livello di ciclo amatori o di turisti o di chi vuole conoscere e fare il turismo del wellness vede nel biking una crescita incredibile anche dal punto di vista turistico. Il significato duplice di sostenere lo sport, oltre all'impiantistica, i bandi attraverso anche un'esperienza collettiva di squadra giovanile coniugato e questo è anche quello che importa, la promozione del territorio perché questi atleti oltre alla partecipazione agonistica alle contese faranno documentazione di quelle che sono le eccellenze del nostro territorio che ha tanto da dire di sé, tanto da raccontare di sé come attestano anche i numeri costanti di incremento della presenza turistica che si sono riscontrati negli ultimi anni Beh, intanto abbiamo tutti gli atleti della regione Emilia-Romagna insomma spaziamo dalla provincia di Modena alla provincia di Cesena per dire dall'Ambrusco al San Giovese per rimanere in tema ma sono dei ragazzi interessanti, abbiamo degli atleti che nella categoria Andre 23 hanno già vinto, uno su tutti è Tarozzi dove speriamo di far bene e poi dopo sarà la strada a dire il tutto Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!